allora oggi è il 12 di gennaio 2022 sono qui sul savio sulle sponde del savio sulle rive del savio in questo momento sono nella riva ovest e mi trovo vicino al parco fluviale di canuzzo e niente comunque questa è una cosa che avevo già visto due tre mesi fa che avevano fatto e volevo documentarla dato che è triste insomma dato che è triste e continua a essere triste l'amministrazione forestale del nostro comune comunque niente lì come vedete c'è la vegetazione ripariale del savio qua intatta sempre degradata ci sono i sali c'è anche le robigne però comunque c'è la vegetazione e a un certo punto come vedete lì si interrompe e viene disboscato tutto in maniera intelligente proprio per favorire l'erosione degli argini insomma credo e la ci sono tutti chiaramente sto scherzando non intelligente in maniera assolutamente senza nessun termine simpatico da dire comunque lì ci sono tutti la legna di residuo e la deforestazione lo sbancamento dell'ergine va avanti fino ai primi alberi che si vedono non so per quale motivo hanno fatto sta cosa vedo che hanno anche spalcato degli alberi è una spalcatura di pioppi bianchi e boh non lo so comunque sicuramente fare una cosa del genere è pericoloso anche a livello idrogeologico non so perché lo fanno l'ho già visto fare anche da un'altra parte però verso cesena qua ancora siamo se non sbaglio dovrebbe essere così quella lì è la chiesa di canuzza siamo ancora dentro il comune di cervia e quindi dato che il nostro sindaco parla tanto bene che gli alberi aumentano che ne piantano tanti però quelli che ci sono già e sono già in forma insomma sicuramente non dico che sia responsabilità sua però sicuramente delle politiche boschive che ci sono in questo comune però parecchi alberi gli sono stati tolti lì c'è una quantità enorme di di legno e non so cosa faranno sicuramente prossimo anno qui rigetteranno tantissimi polloni di salici ma credo che costruiranno qualcosa non so metteranno qualcosa perché sennò non ci vedo il senso ecco già non avrebbe senso anche se ci costruissero qualcosa però vedremo quindi questo è solo un documento giusto per dato che tutti parlano degli alberi che il comune pianta e sta pianificando di sta pianificando appunto di piantare ma vedo che nessuno parla degli alberi che il comune non solo ha pianificato di togliere ma già ha tolto e vi assicuro che ce ne sono parecchi anche nella pineta di cervia con la scusa di aprire le vie antincendio molti alberi vengono abbattuti e niente questa è una soluzione che si può risolvere solo con un approccio di gestione della natura in maniera consapevole perché questa qui è selvicultura e uso del bosco cosa che dovrebbe essere fatta solo in aree di approvvigionamento economico queste qui non sono aree di approvvigionamento economico chiaramente siamo vicino alle rive del savio quindi va bene ciao a tutti allora qui si vede proprio l'esempio tra dove c'è vegetazione comunque anche secca e dove appunto pochi mesi fa sono stati tagliati qui c'è lì c'è il fiume c'è l'alveolo del fiume il letto del fiume e qui è dove sono stati sradicati tutti i salici comunque tutta la vegetazione vicino al fiume infatti la prima cosa che succede quando si scopre il terreno è che ci sono problemi di ristagno sia sia nel periodo delle piogge e di terreno secco nel periodo di luglio agosto quando non piove qui sono stati tolti davvero tanti tanti alberi che sono tutti accatastati lì e vanno fino laggiù questo tutto è terreno spoglio nudo e andiamo a vedere quanti anni avevano gli alberi qua c'è la catasta degli alberi andiamo giù a vedere qui adesso sarà una lama di argilla vedete già che differenza appena appena si espone il suolo questo è un casino madonna santi sabbia immobili comunque sai a vedere quanto si sono profonde il disastro che riesce a fare l'uomo è impressionante e andiamo a vedere quanti parte quanta legna lì c'è il punto di riferimento del campanile che faccio vedere dal lato opposto lì sotto c'è il fiume e qui c'è il disastro della vegetazione e tutto quanto lì ci sono i bulldozer che passano comunque ha spianato anche madonna santa con quel mare di scherpe stiamo facendo un po' una cavolata però ne vale la pena tanto qui fra un po' fra un qualcosa immagino e qui c'è un pericolo di erosione gigantesco insomma tutta qui quando piove scorre tutto giù il fiume la sabbia e l'argilla va tutta giù infatti guardate è una genialata proprio non so come descriverla e qui il fiume boh non comprendo veramente non so forse dobbiamo fare la centrale delle fogne non so cosa ha senso vabbè andiamo a vedere veramente triste andiamo a vedere quanti anni avevano gli alberi per me non era un vecchio comunque però insomma avevano il loro ruolo nel tenere gli argini e tenere un po' la biodiversità alta e qui chi vuole venire a vedere c'è subito il parco fluviale di Canuzzo che quest'estate passavo di qui era pieno di alberi appunto sono tutti lì adesso andiamo a vedere allora ne ho contati una decina e più o meno hanno tutti dai 15 ai 21 anni proprio 21 massimo 20 fino a 20 21 insomma andiamo a contarne uno che si veda bene comunque i salici è impressionante quanto crescono i salici sono questi a legno bianco le robine sono quelle lì a legno più rosso cioè i salici crescono veramente di tantissimo qui c'è un salice per esempio o un pioppo bianco eh potrebbe essere un pioppo bianco in realtà uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci poi qua è difficile perché c'è la sega ma si vede da qua dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove poi qui c'era un ramo comunque alcuni arrivano fino a 21 altri fino a 15 quelli più piccolini quindi mi viene da dire che è stato fatto un intervento simile 21 anni fa più o meno e non a questo punto mi viene anche da pensare che invece semplicemente vogliono non so non credo fare della legna però mi sembra assurdo che abbiano tutti la stessa età più o meno e non saprei se ho alcuna delle idee su cosa io ho cercato su internet ma non ho visto cos'è che devono fare qua non so qualche tipo di 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 amministrazione cos'è che se è un devono costruire qualcosa o semplicemente se è una manutenzione tra virgolette del verde comunque è un disastro ora io sto ridendo ma questo qui è una è una cavolata stratosferica da fare a meno che non ci sia veramente un bisogno straordinario per fare che ne so delle fognature anche se insomma si poteva fare qualcos'altro perché insomma questo è tra l'altro lasciare la terra così è un disastro veramente si compatta tutta ristagna è un casino va bene questi sono documenti che ogni tanto faccio perché sembra che poi i comuni siano tutti amici degli alberi ma come ben si sa si predica bene ma poi si arrazzola male ciao a tutti comunque già che ci sono giusto per far vedere no chi dice che arrare il terreno non porta nessun problema insomma cioè guardate la differenza tra adesso questo non so se è stato proprio arato comunque sicuramente era piccato e insomma è stato fatto una una piccola lavorazione anche per togliere gli alberi qui e lì è un disastro guardate poi fino dove mi sono impantanato anche fino a qua eh 10 cm qui che siamo che dovrebbe essere peggio perché siamo in declivio invece è stato fatto solo lo sfalcio guardate invece che non c'è nessun tipo di problema di ristagno cioè di ristagno comunque di di erosione chiaramente uno diceva vabbè ma perché qui scola e va là ma vi assicuro che anche qui se fosse nudo sarebbe un disastro invece è bello areggiato ok invece là è un zoppone insomma un disastro per questo lavoro qui infatti si vede come facevo vedere anche prima credo guardate che differenza guardate che estrema differenza qui terreno nudo e il livello è lo stesso eh è terreno con la vegetazione sia viva l'alcia il grano che comunque sfalciata morta non ci sono questi problemi di ristagno e qui invece ha un sabio immobile quindi anche questa è una prova del fatto che il terreno coperto ha un senso e la vegetazione c'è per un motivo un po' di contrasto tra i cartelli del parco fluviale tra l'altro c'è stato anche un incentivo qua nel passato del 2007-2013 dall'Europa infatti dopo cos'è che succede che quando c'è tutto il ristagno devi fare gli scoli ti tocca fare gli scoli perché sennò è un disastro quindi in realtà non è vero che c'è bisogno degli scoli c'è bisogno degli scoli quando si tratta così il terreno la vegetazione quindi un problema ancora in più un lavoro ancora in più da fare